Ieri erano mondiale per club, super compa, che sono completata, dura però sempre da favorita, la squadra più forte del mondo. Allora, forse io non mi spiego, ma io solo ho detto anche ieri non ripetisco. Sulla carta, ok, a parole, ok, servono i fatti. Ogni volta bisogna dimostrare. Essere umili non è un qualcosa di sbagliato, anzi, se non è un valore aggiunto. La nostra squadra, umilmente, lavora ogni giorno per dimostrare di essere fatti competitivi e abbiamo voglia di portare a casa i risultati che mi fanno. E il fatto che vengano è un applauso alla squadra, a tutti noi, all'allenatore. E niente, noi siamo bravi, ragazzi, lo stiamo dimostrando pian piano, la strada è ancora lunga e mai dire no. Poi quando arrivano nell'anno olimpico, beh, tutta Italia, magari voi siete considerati, certamente sottolineiamo, tutta Italia sogna sempre di più, quindi aiuta. Tutta Italia sogna, anche noi sogniamo, però uno step alla volta, un obiettivo alla volta. Si pensa prima al campionato e poi in seguito quello che viene dopo, la Champions, e poi ci sarà l'anno. Tre trofei, 28 vittorie su 29 partite, state viaggiando benissimo. Se voi tenete il conto, però, cioè voi, in generale, sarà la quinta volta che mi chiedono in tre settimane. Io non tengo il conto, nessuno della nostra squadra lo fa. Ogni partita vale l'altra, noi pensiamo una cosa alla volta e non stiamo lì a contare quanto ne abbiamo vinto, quanto ne abbiamo perso, cosa dobbiamo fare. Noi pensiamo soltanto a ogni partita, con calma, a portarci a casa il risultato. Poi quello che viene alla fine è... Guarda, di cinque trofei adesso ne mancano due. Non lo so, vediamo cosa succede. Stasera abbiamo vinto, quindi si pensa a festeggiare e ole. Esiste qualcosa che può mettere in difficoltà con Agliano? Tutto può mettere in difficoltà con Agliano come... Tutto o niente, non lo so. Siamo una squadra normale, umana, respiriamo, dormiamo, facciamo tante cose come tutti gli altri. Abbiamo perso controverso già, ragazzi, quindi non è che non speriamo. Quindi questa cosa del... Ah, sono fortissimi, imbattibili, rullo, compressore, sono solo parole. Vediamo alla fine, ne parliamo.